E' praticamente invisibile. Allora perché sei tornato alla Chimera? Non l'ho fatto. Era lui. Quindi ha fatto scappare la Resistenza? Onestamente non ricordo nessuno nella nave, Kamala. Il bestione si è scontrato con alcuni agenti SHIELD, ma poi... Oh, giusto. Credo di aver trovato qualcosa. È parecchio stretto. Attenta alla testa. Aspetta. Ti aiuto. Grazie. C'è una radura più avanti. L'ingresso dovrebbe essere lì. Ok. Quindi, Jarvis, chi aspetto ha? Come un vecchio hard disk del 1998. Ok, altra domanda. Chi aspetto ha un hard disk del 1998? Oddio. Wow. Finalmente. Vuol dire che siamo vicini. Cavolo. È sigillata. Guardate, è un'unità di contenimento. Dottor Banner, cosa faccio? Guardate, guardate. 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 si mette male molto male che diavolo sta succedendo torniamo a la base torniamo a la base spero proprio di sì spero che tu abbia portato dei vestiti di ricambio vedo dal tuo silenzio che non ti fa ridere d'accordo credo che neanche a bruce piacciano le mie battute ok ok non menzionerò il tizio con gli occhiali no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.